buongiorno italia è il vostro segugio che parla è stata dura ma eccoci siamo ripartiti siamo tornati alla guida e alla nostra vita di sempre liberi io continuerò nella mia missione farvi risparmiare sulla polizza auto e moto su segugio.it confronti le migliori assicurazioni online e risparmi da casa e senza costi aggiuntivi rimettiamoci in moto tutti insieme segugio.it il supereroe del risparmio